Libriamoci è un'iniziativa che nasce per festeggiare la giornata nazionale delle biblioteche, il Bibbio Pride, che si terrà appunto in tutta Italia il 13 ottobre. Abbiamo fatto questa proposta all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Magnanca, che ha subito abbracciato questa iniziativa. Libriamoci vuole coinvolgere tutti i bambini di tutte le scuole di ogni ordine grado di San Salvo. L'iniziativa è san salvese, ovviamente, ma tutti possono parteciparvi. L'intento è quello di legare in qualche modo i bambini ad un'istituzione, quale quella appunto del Centro Culturale Aldo Moro, presente sul nostro territorio da più di 30 anni. In che modo? Regalando, essendo la festa della biblioteca, regalando, portando un dono alla nostra biblioteca. Questo libro che verrà donato porterà il nome del bambino che lo donerà e gli verrà restituita in cambio una tessera, la tessera della biblioteca. Al contempo abbiamo proposto al sindaco di creare uno spazio ad hoc per i bambini, la cosiddetta biblioteca dei ragazzi. Claudia Gattella, anche lei rappresentante dell'associazione che promuove appunto questa iniziativa in programma per sabato prossimo. Parliamo appunto di come è nata e quali sono gli obiettivi. L'associazione Vivacemente è nata dall'idea di alcuni genitori e alcuni professionisti diciamo nel settore educativo per andare diciamo a in qualche modo stimolare la voglia di saperne di più sul mestiere di genitori. Perché non è facile insomma, io dico sempre genitori non si nasce ma si diventa. E quindi in questa prospettiva diciamo i tesserati, tutti coloro che vorranno far parte e che già fanno parte dell'associazione organizzano dei corsi di formazione che vanno a toccare tutti gli ambiti della crescita dei bambini fino bambini e ragazzi. In questo particolare contesto che vi stiamo raccontando che è quello di Libriamoci vogliamo dar valore come ha detto Antonia giustamente a questo ambiente facente parte del territorio che è la biblioteca. Che molto spesso purtroppo è stato visto come un luogo obsoleto, vecchio, noioso. E noi vogliamo dargli un'energia, una nuova vitalità, vogliamo creare questo luogo che faccia parte dell'offerta formativa del territorio come un luogo fruibile.